Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6 in questo venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, giorno dedicato agli innamorati andiamo a vedere subito in questa prima parte le prime pagine dei quotidiani locali ma anche di quelli nazionali e sportivi con le principali news iniziamo dai giornali di casa nostra, ovviamente come di consueto dalle prime pagine del quotidiano del centro, una per provincia ecco qua, questa è l'edizione di Pescara l'apertura è dedicata alla viabilità, Viale Marconi infatti diventerà tre corsie la regione avvisa il sindaco Carlo Masci niente modifiche o saltano i fondi in alto le questioni che riguardano anche la politica nazionale esecutivo in bilico, strappo con Terenzi, Italia Viva diserta la seduta di governo l'Abruzzo è più protetto, test coronavirus, Pescara diventa un centro specializzato scendiamo perché la foto ovviamente è dedicata all'ultimissima di calcio mercato che è chiuso ma non per gli svincolati e che riguarda proprio il Pescara perché assalto al Cittadella questa sera per il Pescara intanto i biancazzurri si assicurano, Valery Boginov che ieri sera ha firmato il contratto di sei mesi con la società biancazzurra, qui lo vedete con la sua nuova maglia poi nella parte dedicata allo sport ascolteremo anche le sue prime parole ovviamente Pescara che questa sera, non lo dimentichiamo, avrà la gara l'anticipo di campionato all'Adriatico contro il Cittadella allora ne approfitto per già ricordarvi l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20.30 con Andrea Costantini in studio e con Paolo Renzetti proprio dallo stadio Adriatico per raccontarvi la partita tra Pescara e Cittadella continuiamo la lettura di questa prima pagina entriamo nelle cronache muore a 61 anni in ospedale, scatta l'inchiesta siamo a Pescara, omicidio colposo perché è morta in ospedale dopo un'angiografia la procura ha aperto un'inchiesta per l'omicidio colposo di una 61enne bulgara e ha disposto l'autopsia vigili, il comune conferma il capo sarà Palestini e poi a Montesilvano la riviera sarà ciclopedonale almeno questo come vediamo prevede il piano regolatore in basso Masciarelli interrogato per 4 ore Pescara il manager indagato per il crack Oma si difende niente incarichi, solo consulenze in basso vediamo altre notizie che riguardano la sentenza del TAR di Pescara appalto gasolio, lite da 20 milioni gara ripetuta, la tua vince il ricorso contro Di Properzio dossier Abruzzo in carcere, un detenuto su due è malato e poi in Abruzzo, bambini in affidamento indagine della regione cambiamo edizione del centro andiamo su quella di Chieti-Lanciano Vasto vediamo cosa cambia innanzitutto l'apertura che è dedicata alla politica perché di primio in Fratelli d'Italia scoppia la protesta Chieti, il sindaco verso l'ingresso ma la base minaccia non ci candidiamo la foto siamo a Vasto dove Confindustria festeggia 30 anni di sfide ospite il pallavolista che ha sconfitto il cancro nelle cronache siamo a Chieti le sardine migliaia in piazza Vico e poi a Lanciano no al super manager il Movimento 5 Stelle contesta la ASL in basso sotto la foto preso con 9.000 dosi di cocaina Chieti i carabinieri scoprono il maxicarico nel doppio fondo di un'auto poi come vediamo in basso il resto e anche in alto la pagina è simile andiamo sull'edizione terramana del centro suicida questa è l'apertura un anno dopo la sorella una madre di 45 anni a Teramo emola il tragico gesto della congiunta la foto è dedicata alla visita a Teramo parliamo di ricostruzione del vice ministro Ascani che promette aiuti per le scuole qui lo vediamo con sindaco e vice sindaco di Teramo nelle cronache camera di commercio Teramo ricorre contro la fusione con l'Aquila ha chiesto al tribunale amministrativo un provvedimento urgente per sospendere il decreto firmato dal governatore Marsilio a gennaio a Civitella entro l'anno nascerà la nuova Ponzano mercatone 1 e dunque siamo a Pineto si cercano nuovi acquirenti e poi la notizia di cronaca che di ieri mattina che vi abbiamo raccontato anche durante il nostro telegiornale a Roseto travolto e ucciso dal camion dei rifiuti vittima un anziano che stava attraversando il mezzo era in retromarcia chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana tasse ecco il piano del ministro l'Aquila avendola in città parla della restituzione e dice salveremo le imprese progetto case nella foto edifici abbandonati disagi per i residenti le proposte antidegrado dello psichiatra casacchia nelle cronache l'Aquila a Scania annuncia due scuole pronte a ripartire anche qui si torna però fronte a Quivano sulla visita del vice ministro a Scania da Vezzano il CAM si salva dal fallimento debito a rate a Sulmona niente razzismo il giovane si è ferito da solo e poi muore a 44 anni sempre a Sulmona l'avvocato Ruscitti ricoverato a Chieti per una polmonite i colleghi lo ricordano come raffinato e intelligente e anche la nostra redazione si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa dell'avvocato Ruscitti cambiamo quotidiano adesso andiamo sul messaggero ovviamente la parte dedicata alla regione Abruzzo questa è l'apertura i balneari ancora nel guado concessioni per 13 anni c'è la legge ma le autorizzazioni spettano a regione comuni interessati in Abruzzo i titolari di 600 chalet ora più garanzie per i nostri investimenti anche qui ritroviamo come vedete la tragica notizia dell'avvocato Nino Ruscitti che a 44 anni è stato stroncato da una polmonite di spalla sicurezza nelle scuole 155 milioni dal governo in alto Tortoreto Giulia precipitata dal viadotto il papà a Mattarella diteci la verità a Lanciano giro di prostitute a Civitanova le squillo anche davanti alla Curia e poi per la serie B il Pescara stasera arriva il Cittadella Pescara devi ripartire nell'anticipo alle 21 i Veneti sono effettivamente la bestia nera del Delfino Bozinov ieri le visite mediche poi la firma le grottaglie dice è un generoso e qui vediamo il presidente Sebastiani proprio con Valeri Bozinov che posano con la nuova maglia bianca azzurra dell'attaccante la foto è dedicata alla cronaca muore travolto dal camion dei rifiuti Roseto passeggiata fatale per un anziano penne e popoli parliamo di sanità gli ospedali restano aperti approvata la deroga al decreto Lorenzin la chiusura dei presidi slitta ad aprile del 2022 inquinamento fiume Pescara rischio processo per 11 indagati in basso siamo su d'annunzio mostra esposti i cimeli in copia però andiamo adesso sulla prima pagina della città dunque siamo in provincia di Teramo ovviamente la tragica notizia di Roseto è l'apertura investito e ucciso dal compattatore pensionato travolto dal mezzo in retromarcia mentre torna a casa a Roseto degli Abruzzi leggiamo le altre notizie nei box la denuncia degli ambientalisti area verde distrutta per i parcheggi IZS poi il clima temperature superiori alla media di 7 gradi per il Teramo Viero e Piacentini sono le novità di domani con il Teramo che alle 18 gioca in casa contro il Monopoli a Giulianova Arboretti contro il Daspo domani c'è la manifestazione e poi per la cronaca se indagati per la truffa all'assicurazione Ponzano dunque siamo a Civitella ricostruzione più vicina all'annuncio a tre anni ricordate dalla maxifrana che travolse il paese scuole sicure Anna Scani raccoglie le istanze di Teramo e plaude proprio a Civitella lasciamo per un attimo i giornali di casa nostra andiamo sui giornali nazionali partiamo dal Corriere della Sera come vedrete ha tantissimo spazio sulle questioni governative anche qui alta tensione tra Renzi e Conte duro scambio di accuse il Premier dice non accetto ricatti e chiama il Quirinale alle ricrisi nella maggioranza dopo che Italia aveva deciso di disertare il Consiglio dei Ministri sulla giustizia e la prescrizione è il nodo fondamentale su cui si dibatte vediamo accanto la Cina critica l'Italia poi Mattarella e Xi Jinping rilanciano invece l'amicizia Macron sul ghiacciaio il clima sfida del secolo la campagna del presidente francese sul monte bianco andiamo adesso alla prima pagina di Repubblica maggioranza allo sbando qui viene giù tutto il Premier no ai ricatti sulla prescrizione Renzi sfiducia per Bonafede entro un mese pronto pure al voto consulto tra il presidente del Consiglio e il Quirinale Zingaretti dice Matteo si comporta come fece con Enrico Letta l'idea di Conte sostituire Italia Viva con un pugno di responsabili l'editoriale di Ezio Mauro il vittimismo dell'uomo forte nel paese senza coscienza fine della quarantena addio virus la festa dei cinesi in ospedale li vedete in posa per la foto andiamo al messaggero la prima pagina nazionale anche qui Renzi Conte sfida sulla crisi i ministri renziani desertano il consiglio dei ministri scontro con Palazzo Chigi che chiama Mattarella passa il processo penale con la prescrizione contestata e il Premier punta a sostituire proprio Italia Viva la foto Genova ecco il cuore del nuovo ponte montato in raccordo centrale lungo 100 metri del viadotto ovviamente parliamo della ricostruzione del ponte Morandi virus lo scudo dell'Unione Europea piano frontiere chiuse se scatta l'emergenza andiamo avanti il tempo governo giustiziato con un azzeccatissimo gioco di parole crisi a un passo Renzi e Conte allo scontro finale sulla prescrizione Italia Viva diserta il consiglio dei ministri il capo dell'esecutivo telefona al colle e poi fa provare il lodo bis ormai è davvero rottura e vedete il tempo di Oscio assenti maleducati non sei il preside tra rottamatore Renzi e Premier Conte è una lotta anche di classe vedete qui Teresa Bellanova che nella frase classica un po' ironica che fa parte ovviamente di Italia Viva che si trova tra l'incudine e il martello in questo caso e poi andiamo alla stampa con Terenzi governo in bilico rabbia del Premier fate opposizione maleducata e chiama Mattarella resa dei conti così non va Parisi dell'Agenzia del Lavoro grazie al reddito trovati 40.000 posti PIL Italia maglia nera nell'Unione Europea e poi questa foto grande con due personaggi piccoletto pagliaccio la sfida tra Trump che è ricandidato ovviamente presidente degli Stati Uniti e Bloomberg che è l'ex sindaco di New York magnate Michael Bloomberg che si candida ad essere lo sfidante per parte democratica insomma la sfida inizia sui social network come spesso ultimamente accade e qui invece li vediamo in una foto di repertorio in cui si scambiavano evidentemente delle battute il manifesto porto d'armi questa è l'apertura oggi presidio di Kamal i sindacati e associazioni sotto la prefettura di Genova per chiedere lo stop alle navi con a bordo armi per la coalizione che bombarda lo Yemen previsto martedì l'arrivo del cargo saudita Barillambu porto mobilitato contro la guerra in alto ovviamente anche qui tra conterrenze e scontro frontale il premier Italia Viva fa apposizione basta ricatti il senatore si vuole un'altra maggioranza lo aiuto il fatto quotidiano mafia capitale abbiamo scherzato salvaladri fuori sette politici e dirigenti condannati i primi effetti sulla sentenza della consulta sulla buona fede i pregiudicati escono dalle carceri un po' in tutta Italia in alto Conte scopre il blef di Renzi se esce dalla maggioranza entrano i responsabili e dunque il consiglio dei ministri in serata approva il lodo sulla prescrizione la UE è gentilone altro che flop il reddito di cittadinanza spinge i consumi e il PIL libero la sfida di Renzi a Conte governo sotto attacco da ogni parte Italia viva diserta il consiglio dei ministri il premier fa opposizione ed è maleducata Matteo se vuole lo aiuto a trovare un'altra maggioranza obiettivo far fuori proprio Giuseppe Conte intanto per cambiare una PM chiede quattro anni di carcere per Berlusconi la foto bocciare boccia con un gioco di parole e opera buona parte dalla Calabria con l'autonomia ennesimo sbarco ormai ora siamo il paradiso degli immigrati migliaia di extracomunitari ci invadono il sole 24 ore BTP triennali domanda boom a tassi sotto zero caccia ai rendimenti spinge la richiesta la richiesta delle emissioni italiane con Italexit deficit elevato inevitabile ridurre il rating l'intervista al capo analista di Mudis per l'Italia opera prioritaria ultimato solo pensate il 21% a 20 anni dalla legge obiettivo terminati lavori per soli 19 miliardi su 89 e poi allo studio la mini Ires per chi torna in Italia aiuti alle imprese Patuanelli propone l'aliquota ridotta dal 24 al 10% andiamo su avvenire il doppio rischio nel governo altissima tensione Conte da Renzi un'opposizione maleducata e le previsioni di crescita UE nel 2020 ci pongono all'ultimo posto solo lo 0,3% virus un giro di vite in Cina Mattarella alta le paure aumenta la sorveglianza del regime funzionari rimossi rialzo dei contagi le campane salutano i pochi nuovi nati un annuncio fatto con le campane a un mondo dove i figli sono sempre meno andiamo sulle prime pagine di sport cominciamo dalla gazzetta dello sport CR7 rovescia rabbia Milan ieri sera seconda semifinale di Coppa Italia fita 1-1 tra Milan e Juventus i rossoneri giocano meglio ma Ronaldo fa 1-1 su rigore il rebic in gol Buffon salva la Juve nel finale il rigore contestato Pioli dice non c'era Calabria non poteva sparire Sarri penalti netto e ce n'era un altro e Ibra salterà il ritorno perché era difidato è stato ammonito e dunque non solo lui salterà la gara numero 2 ad inizio marzo tutti al VAR allora a proposito di decisioni contestate la FIGC alla FIFA fateci provare la chiamata degli allenatori gravina con Rizzoli gli arbitri usino di più il monitor in campo in alto intervista all'allenatore dell'Udinese Gotti il metodo Gotti l'ex vice io guardo e imparo altre notizie siamo in casa Inter Ericsson gioca a tempo pieno e Chong Inter si può fare il danese con la Lazio sarà titolare accordo vicino per il baby dello United Capello fa saltare la panca ora in Serie A va di moda il Guardiola di dieci anni fa in basso l'Italia scia spara e fa festa strepitoso argento ai mondiali di Biathlon ad Anterselva la staffetta mista Vittozzi Wierer Hofer e Vindisch che vediamo in foto andiamo sul Corriere dello Sport Salvasarri con questa foto che abbiamo visto anche sul su Gazzetta dello Sport che è la rovesciata di Ronaldo fermata da Calabria per Valeri con meritevole azione meritevole della concessione del calcio di rigore il Milan domina rigore Juve al 91esimo col solito Ronaldo i rossoneri avanti con Rebic vengono raggiunti da CR7 con un penalty segnalato dal VAR e contestato Ibra Castiglieco e Teo Hernandez saltano la gara di ritorno per squalifica e poi Roberto Perrone il Milan c'è la Juve invece come vediamo non si ritrova in alto sia la chiamata VAR svolta nell'uso della tecnologia la FIGC è pronta a fare da apripista la possibilità che le squadre chiedano proprio il controllo del video e Corrierello Sport afferma come questo sia un successo della campagna Approach Challenge ricordiamo che la chiamata non al VAR ma all'occhio di Falco c'è per esempio già nel tennis dove ognuno dei tennisti può richiedere un numero limitato di volte il controllo video di alcune chiamate contestate il Napoli trasformato addio al Sarrismo ora vince con la difesa Lazio 150 milioni di distanza dall'Inter domenica sera la sfida scudetta all'Olimpico l'investimento più importante di Inzaghi è stato Lazzari per conto invece tanti campioni costosi per il basket la Virtus Bologna è fuori parliamo di Coppa Italia in semifinale vanno Milano e Venezia Milano che ha battuto Cremona che Sinner Goffen va a K.O. il giovane azzurro batte un top ten a Rotterdam e va ai quarti di finale grande vittoria per Sinner giovane talento del tennis italiano tutto sport c'è solo CR7 dominio rosso-nero nell'andata della semifinale di Coppa Italia il gol di Rebbi c'è replica Ronaldo sul rigore al novantunesimo espulso Hernández nel ritorno Pioli dovrà rinunciare anche a Ibra e Castiglieco molto più Milan che Juve dice tutto sport altre notizie Inter da riaccendere Eriksen fa in fretta Conte serve la fantasia del danese poi la rivoluzione va a chiamata l'Italia si offre la FIGC alla FIFA siamo pronti alla sperimentazione lo spogliatoio Toro conquistato da lungo più sorrisi meno pressioni in basso mondiali di biathlon l'Italia mix centra subito l'argento Coppa Italia l'Armani di basket l'Armani in viola Milano ok nel segno di Kobe Bryant coronavirus allarme rosso a rischio Tokyo 2020 noi ci fermiamo chiudiamo qui la prima parte previsioni del tempo adesso pubblicità poi torniamo insieme per leggere i quotidiani di casa nostra secondo me alla fine della rassegna proprio directly eh non vinci faccio entrare che dico io no che c'è un po' che c'è l'armi la rassegna la rassegna Grazie a tutti. 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 Andiamo nella pagina di Pescara. Masciarelli interrogato per 4 ore. Grazie a tutti. 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 Ospedali di Penne Popoli, boccata d'ossigeno fino al 2022, via libera alla Camera, all'emendamento presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle Colletti, slitta il rischio di chiusura, ora si attende il piano di riorganizzazione della regione, Pettinari dice riportare il personale adeguato. Poi in questa intervista mamma e papà vivono con noi figlie e amici, ricordano i Di Pietro, i coniugi di Loreto Aprutino scomparsi nella tragedia di Rigopiano e qui vedete c'era anche, alla consegna di una maglia, c'era anche il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie. Rimaniamo a Pescara cambiando quotidiano, andando sulle pagine del messaggero, ecco qua ricominciamo da pagina 35 e 36, ritroviamo la questione dei balneari, stabilimenti in salvo per 13 anni, una manovra a metà, norma inserita nella legge di bilancio, ma per i singoli chalet adesso bisogna presentare le richieste ai comuni e alla regione. In crescita gli impianti fotovoltaici, l'Abruzzo si scopre più green. Andiamo proprio sulla pagina di Pescara, ci andremo tra poco, vediamo se è possibile andarci subito, no, evidentemente no. L'Iquami nel fiume, allora andiamo avanti. Cambia il giudice, nominato Marco Bortone, chiamato dal Tribunale Civile per mettere fine ai tanti rinvii per incompatibilità del GUP. La fase preliminare entra nel vivo, in 11 rischiano di finire sotto processo dopo il cedimento del collettore. Deroga di un anno agli ospedali di Penne e Popoli, colletti, no al declassamento. E poi San Valentino si fa bello per la festa, il paese celebra il giorno degli innamorati, ovviamente siamo proprio a San Valentino in Abruzzo Citeriore, disegni, musica, il teatro degli alunni del MIBE, del Mantone e del Comprensivo, in parallelo business di atmosfere, cene e quant'altro. Ecco, torniamoci adesso sulla pagina di Pescara, sia il mini dragaggio, bando a ostacoli sulla vasca di Colmata. In Regione è fissato il piano di intervento per riaprire un barco per i pescherecci più grandi, la sabbia sarà sversata in mare. In via Gobetti ruspe in arrivo sui ruderi per realizzare un edificio di otto piani. Andiamo all'Aquila, scuola estrigliata della Scani, trovare aree per ricostruire il vice, visita del vice ministro Dem del Miur, pronti a collaborare ma servono risposte. A settembre riapriranno due istituti per altri cinque i lavori, partiranno presto. E poi, sempre all'Aquila, il Carnevale è salvo, il 23 iniziative in centro. Lo scontro, Biondi, Partito Democratico, polemica sul mancato invito al vertice. Cambiamo pagina, andando al Rems di Barete, nessuno batte un colpo, nonostante i gravi episodi venuti a galla negli ultimi mesi, gli enti competenti sembrano disinteressarsi della vicenda, la ASL tace, la Regione deve completare l'accreditamento e c'è il giallo sull'utilizzo dei finanziamenti milionari. Dibattito in Regione, manutenzioni di Benedetto, che vedete nella foto, incalza l'azienda sanitaria. Altre notizie, precari del sisma, sindacati vanno all'attacco, la vertenza. E poi, Pasqualone, una legge per tutelare il dialetto. In basso, box abusivi, ma pienamente in attività. La protesta. Andiamo ad Avezzano Sulmona, una vicenda di cui abbiamo parlato in apertura. Il giovane avvocato muore di polmonita, era stato ricoverato all'ospedale di Chieti, nel reparto di pneumatologia, per un'influenza che si era trascinata. La notizia è piombata sulla comunità Peligna, suscitando grande commozione tra chi lo conosceva e i tanti colleghi che lo stimavano. Ad Avezzano, un commando assalta il distributore con il frullino, niente meno. In basso, acqua, il tribunale dà ragione al CAM e riparte Amplero. Sempre ad Avezzano, l'incendio dei camion, le indagini sono serrate. In alto, sempre ad Avezzano, insulta un poliziotto sul web e viene condannato. A Chieti, Di Paolo, senza programma, noi pronti a correre da soli, leader di giustizia sociale, diserta il tavolo. Oggi incontro con Legnini, Di Giovanni, del PD, i nomi restano. Ferrara e Rispoli, contatti con Italia Viva. Anche qui, San Valentino, tanti eventi d'amore, iniziative culturali. A San Giovanni, Diatino, Cardellini, vivi come richiami, denunciato un pensionato. In basso, la sentenza. Discarica a fuoco, Leon Bruni, Domenico, è condannato. Il blitz preso dai carabinieri, un corriere albanese della cocaina. Cambiamo pagina, siamo a Lanciano, Civitanova. Allarme, prostituzione, strani giri di ragazze, ma anche di ragazzi. Nel quartiere di fronte alla cura, nessuno smentisce. Disagio tra i residenti. La situazione finisce all'attenzione del centro di ascolto Caritas. Rosato, il territorio in declino. Nulla si è fatto per il rilancio. Abbasto, le tubature colabrodo sul tavolo del ministro. Ad Atessa, Feist, scontro alla Camera, alla Sevel. Oggi l'ultima perizia. Siamo a Teramo. Gli sfollati potranno rimanere in albergo per un altro mese. Prorogato il termine per cercare alloggi con il contributo di autonoma sistemazione. Entrano in servizio altri 30 tecnici per poter accelerare la ricostruzione. La tragedia. Mamma di due bambini si impicca con il fular successo a Teramo, a collaterrato. In basso, a Tortoreto, morte di Giulia. La lettera del padre, ricordate Giulia Di Sabatino, direttamente al presidente della Repubblica Mattarella per chiedere verità sulla morte della figlia. Travolto e ucciso, siamo a Roseto, dal camion dei rifiuti. Fernando Castellabate, 78 anni, è stato investito in retromarcia dal compattatore. Il corpo è rimasto sotto il mezzo per molte ore. indagato per omicidio stradale l'autista che non si sarebbe accorto dell'anziano che attraversava con le buste della spesa. Siamo a Giulianova, no al Daspo Urbano, corteo di protesta. E viene segnalato anche il percorso che farà il corteo di protesta. Torniamo sulle colonne del centro. Ecco qua, siamo a Chieti, città verso il voto, la lite nel partito, di primio in Fratelli d'Italia è scontro, ma la trattativa va avanti, il sindaco verso l'ingresso. L'esecutivo cittadino protesta e minaccia di non candidarsi. Sigismondi, parlerò con la base, è una persona valida. L'uscente dice, non chiederò niente. Dall'altra parte il blitz dei carabinieri, corriere in carcere, cocaina nel doppio fondo dell'auto, preso due chili di droga pura, scoperti nel nascondiglio ricavato nel cofano, il vano aperto con una combinazione speciale. Siamo a Teramo, si toglie la vita. Un anno dopo la sorella Simona, viceconte, madre di due figlie, 45 anni, nel febbraio 2019 aveva perso Maura, ex atleta azzurra, morta e suicida, tragedia, ha collaterrato. Travolto e ucciso dal camion dei rifiuti, la vittima è un anziano che stava attraversando la strada. Il mezzo era in retromarcia. Mercatone 1, stiamo a Pineto, si cercano acquirenti per i siti abruzzesi. I sindacati incontrano in regione l'assessore Fioretti per sapere se ci sono trattative in corso. CGL e CISL va coinvolta alla politica per dare futuro ai lavoratori. A maggio scade la cassa integrazione. Intanto, a proposito di punti vendita, Conad, punto vendita di Silvi, chiesta la cassa integrazione per 30 di spalla. Comune di Atri chiesta la rimozione della commissaria del consorzio rifiuti. Sempre a Silvi, il comune si dota del piano verde urbano. Il sindaco interviene sul taglio dei pini in via Pascoli. Rappresentavano un pericolo a Roseto. Attesa infinita per il campo di Santa Lucia. I lavori dovevano essere completati da più di un anno. Mercone dice che è uno scandalo. All'Aquila tasse il ministro Amendola. Così salveremo le imprese. L'intervista. Il responsabile del di Castero per gli affari europei fa il punto sulla questione restituzione. Abbiamo sbloccato una situazione di stallo pericolosa. L'obiettivo è minimizzare l'impatto. Anche qui torniamo a Sulmona. Muore a 44 anni l'avvocato Nino Ruscitti. Era ricoverato a Chieti per una polmonite. Domani i funerali nella chiesa di Cristo Re. L'indagine a Sulmona. Una svolta shock. Nessuna aggressione razzista. Camara si è accoltellato da solo. Il senegalese difensore dei migranti confessa ha guato in strada e inventato in un momento di sconforto. La polizia consegna un fascicolo in procura. Possibili provvedimenti nei confronti del 28enne. In basso. Cachè non pagati. Pace fatta con Cirilli. Siamo a Sulmona. Attore sulmonese che aveva interrotto l'organizzazione di eventi in città. Ottiene i contributi richiesti. Qui siamo allo sport. Allora andiamo in provincia di Teramo leggendo le colonne del quotidiano La Città. Perché Anna Scani raccoglie le istanze di Teramo. Il vice ministro dell'istruzione incontra amministratori, dirigenti e studenti in una città ancora ferita dal sisma. E allora su questo argomento vediamo il servizio della nostra redazione. Anna Scani, vice ministro della pubblica istruzione, ha fatto tappa a Teramo nel corso della sua visita istituzionale in Abruzzo. Il tema affrontato è quello dell'edilizia scolastica, una vera emergenza nei territori del cratere sismico. Poche le scuole ricostruite, molte al contrario quelle senza indici di sicurezza sismica. Tanti però i soldi in cantiere, pronti circa 200 milioni di euro. Oggi sono qui per ribadire la volontà del ministero di mettere a disposizione le risorse che sono necessarie perché le scuole siano messe in sicurezza, siano in condizione di essere scuole sicure e anche belle e adatte all'apprendimento dei nostri bambini e ragazzi. I fondi che già sono stati stanziati per questa regione sono 170 milioni. Ci sono fondi che riguardano la provincia di Teramo, ci sono fondi per le scuole di questo territorio. Naturalmente noi abbiamo messo a disposizione della regione, sulla tabella triennale della regione, altre risorse. Stanzieremo altri 320 milioni a febbraio. Stiamo cercando di sbloccare risorse importanti per le province. C'è un emendamento in ballo che la Commissione bilancio e prima dovrebbe votare proprio oggi pomeriggio per mettere a disposizione circa 800 milioni sui fondi che riguardano le scuole superiori e quindi le province. Perché questa lentezza? A lentezza è dovuta a tante ragioni. La prima è sicuramente burocratica. Verranno sostanzialmente raddoppiati gli esperti che sono a disposizione sul territorio e al Ministero per fare più in fretta e superare i cavilli burocratici che spesso impediscono di trasformare le risorse in edifici. L'instabilità politica nazionale non ha certamente aiutato la ricostruzione nel centro Italia. Come uscire ora da questo impasse? Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, torna a chiedere semplificazione. Quello che noi chiediamo, abbiamo già chiesto al Governo e attraverso Anna lo chiederemo ancora perché possa diventare veramente un tema di Governo, è la semplificazione della ricostruzione pubblica e dentro la ricostruzione pubblica la ricostruzione scolastica. Dopo la visita in comune a Teramo, la Vice Ministro Ascani ha incontrato nell'aula magna del convitto delfico presidi e operatori scolastici del territorio e poi ripartita alla volta di Civitella del Tronto per visitare l'Istituto Comprensivo Gasbarrini, uno dei pochi esempi di ristrutturazione post-sisma in provincia. E continuiamo la lettura, effettivamente riprendiamo la parte finale del servizio. Il Vice Ministro plaude alle condizioni virtuose delle scuole civitellesi, come vediamo nell'articolo e nella foto a Teramo pannelli per coprire il rudere di via Muzzi, intervento tampone in attesa di una possibile soluzione che potrebbe arrivare entro la fine di febbraio. Con l'auto sulla rotonda di San Michele, incente all'alba di ieri per una trentenne portata al pronto soccorso di ambulanza a scopo precauzionale. Intanto vediamo a centropagina, sindaco e assessore incontrano i residenti di Villa Pavone ed Alberto e Verna ascoltano i cittadini e assicurano imminenti interventi nel quartiere. La denuncia di WWF e FIAB, area verde distrutta per i parcheggi dell'IZS, grave danno per l'ambiente circostante e per l'intera città di Teramo. Truffa all'Agenzia Assicurativa, sei sono gli indagati, stipulavano polizie auto in città dove i costi dell'assicurazione sono più bassi, un sistema scoperto proprio dalla polstrada. Andiamo avanti, ricostruzione più vicina a tre anni dalla Frana, qui siamo proprio a Civitella. Sindaco e direttore dell'USR hanno annunciato ai cittadini di Ponzano il completamento del piano attuativo. Siamo a Giulianova, Arboretti si schiera contro il Daspo Urbano, ha fisso uno striscione durante il mercato del giovedì in vista della manifestazione di domani pomeriggio. Siamo a Silvi, Scordella fa chiarezza dopo le polemiche per il sindaco di Silvi, le problematiche legate al taglio degli arberi sono nate con la vecchia amministrazione e a Roseto, anche qui ritroviamo la questione purtroppo di cronaca tra volte ucciso dal camion dei rifiuti, pensionato investito dal mezzo in retromarcia, mentre torna a casa la procura apre un'inchiesta. Apriamo invece noi la pagina dello sport, ripartiamo dal centro, doppia pagina, Pescara-Cittadella, ecco questa apertura del grosso e clemenza. Le mosse di Le Grottaglie, il tecnico punta al riscatto dopo il capo di Chiavari e chiede un delfino aggressivo. Stasera, ore 21, Scognamiglio non recupera, Palmiero rientra dopo la squalifica, biancazzurri non battono i veneti all'Adriatico, pensate dall'ottobre del 2011. E qui vediamo la parte legata invece al nuovo giocatore biancazzurro, il bulgaro biancazzurro, Bocinov. Sudore e gol per il Pescara, voglio l'Adriatico come una bolgia. Qui vediamo le probabili formazioni, tra poco sentiremo proprio le grottaglie. Il 3-5-2 del tecnico del Pescara, Fiorillo tra i pali, Bettella, Drudi e Delgrosso. I centrali difensivi, Zappa-Clemenza, Palmiero, Bemusciai e Crecco da destra a sinistra a centrocampo. E poi Galano e Maniero. Bisogna riscattare la sconfitta di Chiavari contro l'Entella di domenica pomeriggio. Dall'altra parte invece c'è il 4-3-1-2, o 4-3-3, ma più 4-3-1-2 di Venturato con Paleari tra i pali. Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti in difesa, Proia, Iori e Branca a centrocampo. E poi Durso alle spalle di Dio e Stanco. Io vi ricordo ovviamente questa sera alle 20.30 l'appuntamento con Diretta Stadio, con Andrea Costantini, con Paolo Lorenzetti dallo Stadio Adriatico di Pescara per raccontarvi tutto quello che accadrà tra Pescara e Cittadella. Noi per il momento ci ascoltiamo. Un passaggio importante della conferenza stampa di ieri mattina, proprio di Nicola Legrottaglie. Scognamiglio non sta bene. C'ha un po' di problemi alla schiena. Quindi più no che sì. Io credo che loro, intanto sono una squadra molto temibilissima. Cioè loro sono bravi, ho visto i video, hanno tutte le percentuali al loro favore sulle statistiche del campionato. Secondo me dobbiamo essere bravi a interpretare le varie fasi del gioco che saranno quelle quando tu stai lì e quindi devi stare attento a quando ti ripartono e quando loro ti mettono lì, e non posso pretendere di stare sempre lì, quando loro ti mettono perché ti metteranno lì, che sono bravi nel palleggio e quindi abbiamo preparato tutte e due le situazioni. Poi quale ci verrà meglio lo capiremo domani. Se vuoi vincere devi immaginarti la vittoria. E loro, noi, dobbiamo già vederle le cose. Se io le vedo prima, le vedo e poi dopo in campo so che cosa voglio, in che cosa credo, ma perché l'ho visto prima. Quindi la vittoria si può dire, allora da in te non l'hai vista. Molto ovviamente non l'abbiamo vista. Per quello ho detto, dico ai ragazzi, immaginatevi le cose. Immaginatevi il gol, immaginatevi la difesa, immaginatevi come fagli male, immaginatevi loro, come giocheranno. Immaginarsi le cose ti aiuta tantissimo. E vedremo stasera se il Pescara avrà questa immaginazione che chiede le grottaglie. Anche perché, come vediamo, e andiamo sul messaggero Pescara-Cittadella, c'è da sfadare assolutamente un tabù. Alle 21 all'Adriatico arrivano i Veneti, una bestia nera per i bianco-azzurri. Il mister, tante statistiche a loro favore. E però, vedete la foto, Bocinov, visite mediche, ok. Arriva la firma, non solo la firma, anche le prime parole dell'attaccante bulgaro che ascoltiamo al microfono di Paolo Rizzetti. Torni a giocare in Italia dopo esperienze importanti nella Juventus, ma non solo. L'obiettivo tuo personale qual è? Sì, prima cosa è che sono contento e felice di tornare in Italia. Poi l'obiettivo mio è veramente di... Prima cosa è di aiutare i compagni a mettere fiducia in mia lavoro, a sentirsi importante, a sentirsi di credere nei valori, nelle qualità che ha. Pescara chiede a Bocinova anche un bel po' di gol. Io penso che è normale che la Pescara, la gente, la tifoseria, i compagni, i mister, il presidente, tutti quanti chiedono questo, ma Valeri dipende dalla squadra come la squadra dipende da Valeri. Entrambe le cose qua, non deve essere un giocatore a riva, se le cose vanno bene dobbiamo fare le cose tutti insieme bene, se le cose in mano vanno siamo tutti nella male. Però pensiamo positivo, porterò entusiasmo, porterò la fiducia, porterò esperienza. Ci sono tanti altri giocatori come Campagnaro e De Grosso, giocatori importanti, giocatori con l'esperienza, che conosco e noi più, come posso dire, vecchie guardie, dobbiamo essere a un sostegno, a dare una mano a quelli giovani. Torni a Pescara e ritrovi Nicola Legro Tagli, con cui sei stato compagno nella Juventus. Sì, ritrovo mister, so che questa è la sua prima esperienza dall'attore di fare Serie B con Pescara. Presente, le ha dato la fiducia, crede in lui. Conoscendo Nicola, mister, che è una persona per bene, una persona eccezionale, sereno come sempre, come l'ho lasciato così lo ritrovo, come l'ho visto. Molto sereno, molto tranquillo, equilibrato, normale che lui è stato anche come giocatore così. molto sereno e tranquillo nel parlare, nel gestire, nel fare. Sono sicuro che spero di poter veramente tolirci le sue sue funzioni e spero che mister possa essere un suo rilancio suo per un grande futuro come l'attore. Adesso sono giocatore di Pescara, contento, felice, spero di poter acclamare questa grande piazza, questa tifoseria di Pescara, di farle tornare ancora più gente allo stadio, di seguirci, di stare vicino a noi. Io voglio che qua Pescara diventerasse un campo, veramente una bolgia, una cosa difficile, che altre squadre, solo che quando entrano in campo, devono dire che qua non c'è niente da fare. Qua si perdono e basta. Stasera non sarà ovviamente in campo, Bocino va appena arrivato, insomma lo aspettiamo presto, in forma, intanto sarà una partita particolare per l'ex Cristian Ventola, stiamo cercando la continuità, dice. Il difensore del Cittadella è andato proprio a Cittadella sul finale del mercato estivo, nello scambio che ha portato Drudi a Pescara. Scendiamo in basso per il basket, Sharks con un po' di fortuna ce la faremo, coach d'Arcangeli è fiducioso dopo la vittoria, con Piacenza a Forlì faremo bene, se giochiamo così. Dall'altra parte invece siamo in Serie C, Teramo-Giampaolo al Bonolis, blindato blitz del mister del Milan allo stadio, durante l'allenamento a porte chiuse, evidentemente entrano solo i VIP e i giocatori allo stadio di Teramo, sfida contro il Monopoli, Minelli non ancora in piena forma, ma Piacentini è in pole per la difesa. Dall'altra parte di spalla, Torrese batte il Castelnuovo. Vomano e Rigori, finale del Coppa Italia, eccellenza festa dopo il Big Derby. Avezzano-Liguori, che è appena tornato in bianco-verde, credo nella squadra. Restiamo in Serie C, andiamo sul centro, perché il Teramo è a lavoro, come vediamo davanti a Giampaolo, con il dubbio Minelli, l'ex tecnico del Milan, amico di Iaconi a colloquio con Tedino, il DS del Monopoli Cerri, dice sfida difficile per entrambi. Dall'altra parte una notizia importante, perché ricorderete le accuse di diffamazione del ciclismo contro Danilo Di Luca, e Danilo Di Luca è stato prosciolto, non diffamò il ciclismo. L'ex corridore di spoltore, Radiato Dalconi, scagionato dal Tribunale di Milano, dopo la denuncia di aver gettato fango sui colleghi nella famosa intervista al Iene. Ci fu un lato di accusa verso il movimento e evidentemente il Tribunale di Milano ha dato ragione all'ex oramai corridore di Casanostra. Andiamo, concludiamo con il basket, perché vediamo che Pieric, il capitano di Roseto, rassicura i suoi, a Forlì ci sarò, è il mio derby a due, il grande ex domenica giocherà nella città in cui vive, dovremo correre e passare, e pressare sempre, non serve puntare solo sulla tattica. Novità di mercato in Serie B, sempre per il basket, Giuliano va a cambia, ora nel mirino c'è uno tra Banach e Sec. Questa era l'ultima notizia per questa mattina, io vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale, la prima delle tre edizioni alle ore 14, le altre sono alle 19 e alle 23, e poi vi ricordo ancora una volta, 20 e 30 questa sera diretta stadio, per vivere insieme le emozioni di Pescara Cittadella, e speriamo che siano tante, la rassegna stampa mattino 6, invece torna domani mattina, puntuale alle ore 8, è tutto, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.